Attacca l'ospedale di Padova il fidanzato della donna, morta nel sonno qualche giorno fa a Rubano nel Padovano. Lei, 46 anni, è deceduta, probabilmente stroncata da un infarto e non arrivato all'improvviso. Le avvisaglie, secondo quanto riportano i giornali, c'erano state tutte. Lei stava male già dal mattino, tanto che era andata all'ospedale per farsi visitare, ma le avevano dato del malox perché erano convinti si trattasse di gastrite. Forte mal di stomaco e dolori al petto che probabilmente erano un infarto non riconosciuto. Ora l'uomo vuole chiarezza su quanto accaduto.